La propria esperienza, il proprio talento, il proprio sabato, il proprio sabato. La propria esperienza, il proprio talento, il proprio talento, il proprio talento, il proprio talento. La propria esperienza, il proprio talento, 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 il proprio talento. i nostri figli, 790 ospiti dove per loro la diversità è evidente, è statissima. Allora mi veniva in mente, forse la nostra presenza qui oggi, tutti, e il senso di quello che stiamo facendo ci dando un po' di forza, perché noi facevamo così, siccome i nostri ragazzi non sanno parlare, non sanno ruoversi, cerchiamo di comunicare con il piano, cerchiamo di comunicare con il loro spirito, con il canto, con il loro ruolo, perché il canto esprime ciò che non è evidente, e anche loro, con i loro gesti un po' boffi, con le loro parole appena pronunciate, riescono a descrivere la loro ugualianza a tutti, a tutto il mondo, a tutti i luoghi del mondo. Allora vi ringrazio perché davvero io sicuramente sono molto emozionato con questa presenza fatta oggi qui in un luogo, ripeto, dove la diversità è evidente, ma ci misce tutti questo desiderio di ritrovare la grandezza di ogni luogo, che è la grandezza che abbiamo detto tutti, che abbiamo un corpo perfetto, o apparentemente perfetto, una voce apparentemente bene, però abbiamo una grandezza che dobbiamo buttare fuori, che tanto c'è l'unità di esprimere queste cose. rappresento la tradizione cristiana cattolica del foro delle religioni in Milano, all'istituto di San Francisco del Heino, insieme alla sua gente che sente in Italia e sempre adesso offre dove? ... ... ... Grazie a tutti 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 Grazie a tutti